presidente il carnevale estatico si chiuderà con un super ospite si si chiuderà con un super ospite on stage in collaborazione con l'ente carnevalesca offre questo questo magnifico concerto di samuel siamo molto contenti di questo all'arena bcc il 29 agosto i tesserati carnevalesca avranno una bellissima agevolazione perché potranno vedere samuel dalla prima fila quindi prenotatevi in carnevalesca e potrete appunto vederlo da vicino vicino importante anche la collaborazione con la cooperativa tre ponti assolutamente grazie alla collaborazione con la cooperativa tre ponti e quindi all'ospitalità che ci danno all'arena abbiamo la possibilità quest'anno di portare un grande artista nazionale che è samuel leader dei subsonica dei motor connection conosciuto anche per essere stato uno dei giudici di delle ultime edizioni di x factor nonché solista ha iniziato da tempo anche questa carriera da solista è stato sanremo quindi insomma lo conoscono un po tutti e noi lo ospitiamo a fano quest'anno le prevendite sono partite le prevendite sono partite su live ticket online e poi è possibile prenotare i biglietti sia all'arena sia in carnevalesca soprattutto per i tesserati carnevalesca sia in una serie di esercizi aderenti potete trovare l'elenco sulla pagina di on stage produzione sulla pagina facebook